Arriverà il capping anche sulle aree delle discariche 2A e 2B di bussi sul Tirino rimaste finora scoperte. Si tratta del telo che impedisce all'acqua piovana di attraversare i rifiuti tossici, andando poi a contaminare le falde acquifere. Il lavoro, del valore di 2 milioni, sarà completato da Edison entro dicembre. Credo che entro dicembre Edison ce la farà. Parliamo di 29.000 metri quadri, quasi 3 ettari di rifiuti, 150.000 metri cubi di rifiuti che sono dal piano di Calpestio fino a 4-7 metri in alcune circostanze. Il capping però, anche considerando quello nuovo, non ricopre tutte le aree inquinate ed è una misura che nulla ha a che fare con la bonifica e che non garantisce una sicurezza del 100%. Anche il capping in realtà non garantisce sempre zero inquinamento. Ci sono delle analisi dei piezometri, ma anche delle analisi fatte sulla qualità dell'aria che dimostrano che laddove il capping c'è, inquinamento c'è ancora. E l'Arcadis, la multinazionale olandese che si occupa di ingegneria ambientale, ha certificato che da luglio 2018 quei meccanismi posti dalla Solvay per raccogliere l'acqua inquinata erano completamente fermi. La domanda è in questi due anni quanto materiale sarebbe potuto venire alla luce e invece non è stato perché è stato completamente abbandonato. Ma c'è una novità che è ancora più importante di quelle che abbiamo detto fino ad oggi, cioè questo tavolo tecnico del primo di ottobre che ha sostanzialmente previsto una nuova caratterizzazione di questo materiale che sarà pronto di qui a 4-5 mesi e quindi un progetto di bonifica che partirà con la rimozione del materiale. Intanto la gara riguardo la rimozione dei rifiuti è stata annullata, non senza polemica, nel ricorso in tribunale. E ora sarà la Edison non solo a pagare la bonifica ma anche a doverla progettare. Edison ha chiesto un procedimento in tre fasi. La prima è quella del capping, la seconda e la terza invece porteranno all'analisi di rischio e a un progetto di bonifica che potrebbe essere quindi approvato entro settembre del 2021, cioè di qui a un anno. Fatto sta che a 13 anni dalla scoperta delle discariche di bonifica non se ne vede neanche l'ombra e le sostanze tossiche continuano a inquinare. Rifiuti sono venuti alla luce anche dal sopralluogo dell'Arta di giovedì scorso. Il colore rossiccio del terreno che si vede in foto potrebbe essere dato dal mercurio. Nel frattempo sono terminati i sei mesi previsti da statuto a disposizione della commissione d'inchiesta. Il PD chiede che la commissione venga riformata e questo potrebbe accadere ad inizio 2021.